Ma salve a tutti ragazzi bentornati in compagnia del vostro Wertz e bentornati in compagnia di EvoSmart.it Oggi non parliamo dei smartphone ma andiamo a parlare di un altro argomento che a me piace tantissimo quindi il monopattino, cioè su questo canale YouTube avete visto delle recensioni dei monopattini è successo sostanzialmente che lo Stato dopo questo lockdown ci rende il 60% andando ad acquistare un monopattino oppure una bici, oppure una bici a pederata assistita, oppure altre cose che vi spiegherò dopo. Allora un video che mi avete richiesto, un video che io ho atteso, ho atteso perché volevo vedere come si muoveva il tutto come si muoveva il mercato, come si muovevano le leggi, come si muoveva l'utenza anche dopo quello che è successo e quindi ho voluto attendere Amazon. Perché ho voluto attendere Amazon? Perché è uno dei nostri partner principali, quindi Wertz dove acquistiamo un monopattino Amazon è super consigliato e anche perché è un nostro affiliato quindi di conseguenza tutto quello che acquisterete su Amazon dai nostri link troverete il canale Telegram qua sotto in descrizione delle nostre offerte beh ci aiuterete nel sostenere EvoSmart quindi ho voluto un po' attendere il tutto. Come sempre ragazzi vi ricordo qua sotto di schiacciare il tasto like per supportare le nostre recensioni condividere il video e iscrivervi al nostro canale YouTube. Iniziamo ad analizzare la cosa e l'analizzerò da consumatore perché secondo me è la miglior cosa non tanto da recensore. Allora post lockdown lo stato cosa mi ha detto? Mi ha detto guarda Wertz invece di prendere la metro, invece di prendere il treno, invece di fare gli steolisi spostamenti con i mezzi pubblici, i tram e quant'altro io ti incentivo, ti incentivo a comprare una bicicletta, una bicicletta pedalata assistita, un monopattino, un monoruota, anche se però in monoruota sono sempre stati illegali adesso comunque l'hanno inseriti, oppure ti incentivo qualora nella tua città sia disponibile ti do fino a 500 euro da spendere in sharing, non car ma ad esempio lo sharing delle biciclette, dei monopattini e quant'altro. E fin qui a me può anche star bene. Se non che, come sempre succede in Italia, prima tiri fuori il cash, quindi prima te paghi 7, 8, 5, 4, 300 euro, quello che vuoi l'oggetto, quindi cosa faccio? Mi piace un monopattino Xiaomi, costa 500, perfetto, lo pago al 60% meno, vado nel carrello tac, lo pago meno, no, no, non funziona così, perché in Italia non funziona mai così. Prima cosa ragazzi cosa si fa? Si tira fuori il cash, quindi monopattino Xiaomi quanto costa? 500 euro, bene, paghi 500 euro. In questo caso su Amazon dovete abilitare il codice fiscale nel vostro account, dovete inserirlo. Serve per avere la fattura o scontrino con codice fiscale, perché senza lo Stato non vi rende assolutamente niente. E serve poi per farci rendere, farci riaccreditare il tutto. Ci sono due fasi. Allora, la fase 1, che è quella in cui siamo adesso, praticamente funziona così. Noi compriamo l'oggetto, lo paghiamo prezzo pieno e poi lo Stato ci rende tramite questa fattura, barra scontrino, appena il sito sarà abilitato, perché ancora non è abilitato, ci rendono fino al 60%. Va bene? Però aspettate, non è che tutti possiamo usufruire di questo. No, perché in Italia non funziona così. Vado a prendere i miei appunti perché me lo son sognato. Praticamente rientrano solamente i cittadini maggiorenni, attenzione, e residenti in capoluogo di regione, in città metropolitane, capoluoghi di provincia, comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Quindi, Guerzo, dove abiti te a Rignano-sull'Arno? Quanti abitanti fa Rignano-sull'Arno? 8.000, e già, uh, 8.000 sono pochi. Ma Rignano rientra nella città metropolitana di Firenze e vi dovete informare, mi devo informare tramite Google o tramite telefono. Questo è un altro punto da non sottovalutare. Esiste anche una fase 2. La fase 2, secondo me, è quella forse più facile, ma non si sa quando arriverà, dove noi cosa facciamo? Tramite un sito dedicato dello Stato possiamo direttamente acquistare, se rientriamo in questi requisiti, l'oggetto, quindi la bici, il monopattino e quant'altro, e pagarlo subito fino al 60% o meno. Questa è una fase che potrebbe essere valida, potrebbe essere giusta. Ricordatevi che il bonus è anche retroattivo. Quindi se voi avete acquistato, non lo so, a febbraio, avete lo scontrino, avete la fattura, siete in regola, avete acquistato questo prodotto, vi potete, appena il sito sarà disponibile, farvi rendere i dindi, farvi rendere i soldini. Vi ripeto, sto facendo questo video con una semplicità unica, ragazzi. Proprio perché so bene che quando si parla di soldi, di farsi rendere i soldi dallo Stato, di rimborsi, c'è un casino della madonna. E adesso voglio parlare con te, perché io lo so che stai pensando, eh, ma se lo Stato non apre mai quel sito, io col cavolo prendo il 60% del rimborso, perché ancora la cassa integrazione deve arrivare. Oltre a essere censore, oltre comunque a stare su YouTube, sono una persona normale, quindi le stesse cose che state vivendo voi, le sto vivendo anch'io, cioè le vivo anch'io lato amici, famiglia, eccetera. E so bene che siamo in un periodo di quella parola lì, perché è difficile, perché è veramente la vita, la vita reale, quindi dietro alla telecamera c'è la vita reale, ragazzi, non vi preoccupate, anch'io vi capisco, so bene i momenti che stiamo passando e so benissimo che oggi tirar fuori 500-600 euro per un monopattino che magari vi potrebbe servire e aspettare l'apertura di un sito oppure la fase 2 per il rimborso è un casino, è un investimento che in tante famiglie non possono fare, lo so bene, lo so assolutamente bene. E poi voglio parlare anche con te, con te che magari stai pensando, eh ma su Amazon costa 500, dalla Cina lo pago 300, magari lo compro su Gearbest, magari lo compro su Banggood, attenzione ragazzi, perché rischiate tanto, perché rischiate di non veder niente, serve una fattura con codice fiscale, io non voglio dire che Gearbest non faccia quel tipo di fattura o che Banggood non faccia quel tipo di fatture o che magari su AliExpress non facciano quel tipo di fatture. Ma quando c'è di mezzo un rimborso dello Stato, dove vi ripeto, il cavillo esiste sempre, comprate sti cavolo di monopattini dove siete sicuri, il negoziante sotto casa se lo vende, arrivate lì codice fiscale, vi fate fare la fattura, insomma tutto deve essere in regola perché sennò non prendete niente. Io ve lo dico in primis, perché noi vi consigliamo Amazon? Perché io non conosco il negozio fisico di Firenze, io conosco Amazon e di conseguenza so bene che se fate come vi dice Amazon, inserite il codice fiscale nel vostro account, comprate, vi fate mandare la fattura dal negoziante Amazon, sicuramente il rimborso lo avrete. Vi lascerò qua sotto il link in descrizione dell'articolo che ha scritto Federico con i migliori monopattini da acquistare su Amazon. Saluto il mio caro amico Alfredo, che tanto tornerà anche qua in ufficio, che sta facendo le recensioni dei monopattini sul canale di Laco, che ovviamente saluti, vi lascerò qua sotto in descrizione, sono amici di Firenze, stanno arrivando duemila iscritti, tra l'altro vanno anche molto bene, io sono contentissimo in questo, gli do sempre una mano quando posso e loro lo sanno e insomma lì se volete cercare la recensione più completa sicuramente sul loro canale la troverete anche perché adesso lato review monopattini, io sono praticamente fermo, mentre loro cercano sempre di darvi quel consiglio in più. Che dirvi, questo è un video che sicuramente vi servirà, vi sarà molto utile, con un dialogo molto amichevole, come piace a me, soprattutto semplice perché quando c'è di mezzo queste cose la semplicità è la forma migliore anche perché ragazzi in questi mesi ho visto dei decreti, conto decreti, un casino allucinante, non si è capito nulla e quindi la semplicità secondo me ci deve essere, mi raccomando lasciate un commento qua sotto se avete bisogno di qualcosa, noi ci siamo, cerchiamo di rispondere a tutti anche insieme a Federico che magari è anche più ferrato di me in alcune cose e come sempre ragazzi tutto lo staff di evosmart.it anche per questo video vi ringrazia, vi saluta e ci vediamo domani per un nuovo video, ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi